Si resiste? Si resiste, a denti stretti si resiste. Parte da Rigutino una frazione del comune di Arezzo attraversata dalla regionale 71, un grido forte e chiaro, non fate morire questo paese. Il paese ha registrato la chiusura di recente di due importanti attività, l'unico supermercato in zona è uno sportello bancario. Se rande abbassate che si aggiungono alle altre chiuse in questi anni, il rischio è che Rigutino diventi un paese dormitorio, eppure la popolazione non è diminuita. Ma no, non si è spopolato il paese, perché il paese, anzi gli abitanti sono sempre soliti, anzi probabilmente è aumentato, però probabilmente è diventato più un paese dormitorio, perché si stanno aiutando continuamente attività commerciali e adesso prossimamente chiuderà anche la banca. E quindi vengono a mancare tutti quei servizi che sarebbero necessari per rendere più vivo il paese. Mancano le infrastrutture, dicono residenti e commercianti. L'unica che aiutava gli spostamenti interni, questo ponte, è stato demolito, ma della passerella che doveva comunque consentire il passaggio pedonale, ancora nessuna traccia. Speravo che il giorno dopo che veniva abbattuto ci fosse questa attenzione al territorio e fosse stato ricostruito, questo è un esempio. Non si può pretendere che i parcheggi vengano fatti e si pensa che quelli che sono alla scuola elementare o scuola media possono essere di supporto a noi commercianti. Della questione si era interessato Marco Casucci, consigliere regionale della Lega, annunciando un'interrogazione. Alla Lega chiederà invece che si occupassero di trasporti, con in testa il suo ministro Salvini. Al momento, dunque in mancanza di risposte certe da parte delle istituzioni, ai cittadini non rimane che rifarsi la bocca con la crema pasticcera della signora Giuliana. Dovrebbero aiutare i giovani a un'iniziativa di aprire altre attività, qualcosa, per non farlo morire del tutto.